Il sigillo della Regione alla protezione civile Le commissioni bilancio e sanità si sono riunite in settimana per proseguire l'esame dei pacchetti normativi, dei bilancio finanziari e del nuovo piano sociosanitario regionale. Nella scorsa settimana era già stato espresso parere favorevole a maggioranza sulla programmazione dell'attività della società di committenza regionale.